eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video di aggiornamento sul mondo di call of duty oggi nello stesso video incorporerò due notizie parleremo di call of duty world world 2 e parleremo di call of duty infinite warfare perché sono apparse due notizie veramente molto ma molto importanti se vi siete persi il video delle 13 correte subito a vederlo perché ho trovato ben 4 indizi che confermano l'ambientazione della seconda guerra mondiale per il nuovo call of duty targato sledgehammer games partiamo con il video di oggi con la prima notizia come sappiamo call of duty world world 2 a quanto pare sarà il nuovo capitolo della saga però ancora non è stato annunciato ufficialmente bene una nuova conferma è arrivata dal noto insider shinobi 602 praticamente questo insider è veramente molto famoso perché in passato ha indovinato tantissime cose in merito all'arrivo di videogiochi console e quant'altro ebbene direttamente dal suo profilo twitter ha confermato che il prossimo capitolo della saga di call of duty sarà proprio call of duty world world 2 infatti l'ha proprio extra confermato quindi ormai sappiamo quasi per certo che il titolo del gioco sarà questo restiamo soltanto in attesa dell'annuncio nel mese di aprile massimo nella prima settimana di maggio dell'annuncio della parte della sledgehammer games passiamo alla seconda notizia del giorno andando a parlare del dlc2 di call of duty infinite warfare e la notizia questa volta arriva invece dal profilo twitter di liros l'associate project director dell'infinity world per quanto riguarda la modalità zombies bene a quanto pare la cinematic per quanto riguarda la modalità zombies della nuova mappa zombies che troveremo all'interno del dlc2 è pronta quindi liros ha annunciato che non vede l'ora di condividerla dato che questa sera come ben sapete ci sarà una live stream dell'infinity world dove a quanto pare annuncerà le novità in arrivo per il titolo potrebbe anche arrivare il trailer della mappa zombies del dlc2 massimo si vocifera arriverà nella settimana vi darò comunque aggiornati e vi riporterò ovviamente il trailer qui sulle mie pagine del mio canale youtube fatemi sapere qui sotto nei commenti e come sempre cerchiamo di raggiungere i 300 mi piace per il prossimo video di aggiornamento sul mondo di call of duty e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale